buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 6 novembre 2023 ebbene novembre comincia inoltrarsi verso quello che è la data più importante ormai della fine dell'anno che è quella di natale e già sui giornali si comincia a parlare di natale si comincia a parlare dell'albero si comincia a parlare di tutte le iniziative le manifestazioni che aglieteranno soprattutto il mese di dicembre perché poi si partirà dall'ultima settimana di novembre ma intanto noi cominciamo dall'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi e troviamo san leonardo di limoges san leonardo visse nel quinto secolo era parente di clodoveo re dei franchi predicò in acquitania e memorabile fu il prodigio che operò in favore della sposa della moglie di re teodoberto che stava per morire durante il parto ebbene proprio per le preghiere del santo questa neomamma si salvò e si salvò ovviamente anche il figlio ecco perché ecco perché san leonardo è stato proclamato il patrono delle gestanti quindi quando uno magari si trova un po in difficoltà quando una persona si trova un po in difficoltà ecco può chiamare san leonardo verrà senz'altro in aiuto ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo ebbene ieri in grande evento su tutte le marche da anni poi se ne sono prodotti poi vedremo anche i giornali intanto oggi vediamo che i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino ancora tesi da sud sud ovest al pomeriggio moderati da sud ovest il mare è poco mosso la temperatura 14 la minima 22 la massima questo è un po un quadro molto sintetico di come andrà il tempo nella giornata di oggi e allora apriamo i giornali e diamo un'occhiata alla prima pagina del resto del carlino che ha insulto un po di tutte le notizie delle cinque province marchigiane vediamo subito quella che si riferisce al maltempo la raffica del vento tetti scoperchiati un uomo ferito ebbene in tutta la regione c'è stata una vera e propria strage di alberi caduti anche sulle case sulle automobili grave un 36enne colpito da un ramo a serravalle di macerata a senigallia una tempesta di sabbia a fabriano si sono verificati degli smottamenti e a pesaro sono stati abbattuti anche pali della team e dell'enel insomma veramente molte molte le chiamate da parte dei vigili del fuoco ma anche della protezione civile e di tutte le altre forze impegnate a mantenere l'ordine pubblico a pesaro in particolare lo vediamo qui in testa alla prima pagina c'è il caso un caso di cronaca un uomo aveva l'obbligo della firma in caserma va in caserma non trova nessuno s'arrabbia e se la prende con la prima pattuglia dei carabinieri che incontra per strada e viene arrestato a fano è invece ieri si è celebrata la festa della polizia locale una cerimonia importante i vigili in alta uniforme prima la messa in duomo poi il ricevimento in episcopio dal vescovo e quindi la cerimonia pubblica nella sala verdi del teatro della fortuna a pian di melento si è dato la via a gildo costantini aveva 106 anni era un uomo che aveva fatto la guerra ne fece cinque in guerra di anni quindi veramente se la passò tutta con un ricordo molto molto drammatico ma la foto più importante è dedicata a questa quindicenne si tratta di mitila una ragazza che purtroppo si è gettata dalla finestra da uno stabile alto cinque piani ecco il volto della ragazza di 15 anni che si è tolta la vita il padre è indagato a centinaia di persone per l'ultimo saluto nella camera mortuaria dell'ospedale di ancona con il rito islamico a macerata 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 piange la professoressa argia merlini e mentre a porto san del pidio c'è una polemica nei confronti di marco re e che si è esibito al teatro delle alpi ora scoppia anche uno scontro politico c'è un altro lutto questo ad ascoli lo chiamavano bistecca morto dottavi animatore del carnevale agli esi ladri svaliggiano un'abitazione portati via ricordi fa male al cuore ovviamente quando c'è un'invasione in un appartamento oltre al furto dei beni preziosi che un proprietario subisce c'è anche la devastazione di tutte le cose care di tutte le cose messe in ordine che i ladri fanno e poi c'è stato un bel gesto invece l'igabue canta e poi abbraccia i bambini del salesi e ha fatto una visita anche alla croce rossa apriamo dunque il giornale diamo un'occhiata più da vicino alle notizie di pesaro e guardiamo l'articolo che riguarda il ventunenne che è stato denunciato perché ha insultato appunto la pattuglia dei carabinieri dopo aver trovato la caserma chiusa aveva l'obbligo di firma si tratta di un ventunenne di terre roveresche stamattina avrà la convalida e il processo per direttissima al tribunale di pesaro secondo quanto si è appurato il ragazzo aveva già il peso di una rapina ecco perché doveva andare in caserma a firmare una rapina nei confronti di un cameriere che l'estate scorsa a Fano ha dichiarato di essere stato minacciato e derubato di 100 euro dal ventunenne in compagnia di un complice per questa accusa però il ragazzo aveva evitato il carcere ma non nella misura cautelare della firma una firma che doveva depositare ogni giorno appunto in caserma nella caserma di San Giorgio di Pesaro ebbene l'altro giorno andava lì a firmare non c'era nessuno se l'è presa non si sa perché ha incontrato i carabinieri li ha offesi ed è stato arrestato comunque il fatto che la caserma fosse chiusa salvava in realtà a questo ventunenne perché bastava che lui arrivasse davanti la caserma veniva inquadrato dalle telecamere questo bastava perché assolvesse al suo compito ma questo a lui non è bastato e quindi è andato in escandescenze ed ora diamo un'occhiata agli effetti del maltempo strade chiuse alberi abbattuti il vento flagella l'intera provincia sono state oltre 250 le chiamate ai vigili del fuoco che si sono adoperati in tutta la provincia per rimuovere rami tronchi d'albero rimuovere ostacoli nelle strade vetrate volate tetti di lamiera spazzate via dal vento abbattuti dalle raffiche anche pali della team dell'enel squadre al lavoro nella notte per il ripristino ebbene diamo un'occhiata ai danni che il vento spirando a forte velocità ha procurato appunto nel territorio una strada chiusa per ore quella che arriva a montbaroccio a monte ciccardo problemi lo stesso per tronchi in strada il vento forte ha spazzato via anche cartelli stradali e quelli pubblicitari a marotta sono volate vetrate e copertura di un garage a santa maria dell'arzilla è caduto un cavo dell'enel che è stato ripristinato in serata da anni anche ad urbino alcuni pali della team che è stata chiamata per il ripristino sono stati riposizionati ma erano stati abbattuti oltre 70 dicevo le chiamate a cui ieri è stata data una risposta da parte di tutte le squadre in servizio dei vigili del fuoco ora il tempo dovrebbe un po' calmarsi il vento questa mattina era molto molto diminuito quindi si spera in una giornata tanto e quanto non fa nemmeno molto freddo quindi una giornata in cui dovrebbe tornare un tempo accettabile ed ora vediamo invece l'articolo che riguarda la festa della polizia municipale che ieri si è celebrata a fano in occasione della commemorazione del 160esimo anniversario della fondazione del corpo festa della polizia locale abbiamo personale mezzi per garantire il rispetto della legalità tant'è che l'organico della polizia municipale è stato aumentato proprio recentemente nel 2019 c'erano 47 agenti in servizio oggi se ne contano 62 compreso ovviamente la comandante compresi gli ufficiali e tutti gli altri agenti sono aumentate anche le telecamere in servizio ce n'erano solo 4 all'inizio della tornata amministrativa ora se ne sono addirittura 130 pensate come il territorio fanese viene vigilato e viene controllato ma occorre non solo prendere le immagini ma occorre anche poi visionarle perché quando si verificano dei danni dei problemi dei vandalismi occorre riuscire a riconoscere la persona che le immagini hanno riportato e qui ci vuole personale vediamo gli incidenti nei primi dieci mesi di quest'anno dal primo gennaio a ottobre si sono verificati 270 incidenti stradali di cui 165 conferiti purtroppo uno con esito mortale sono stati effettuati inoltre 237 accertamenti per guida in stato di ebrezza oppure sotto l'effetto di stupefacenti 14 hanno dato esito positivo sono stati poi controllati 3920 veicoli con 189 sequestri e 4551 persone che sono state controllate comunque pensate che in una città come fanno percorrono le strade 50.000 veicoli al giorno e quindi pensate la mole di traffico che si verifica in questa città soprattutto il traffico di attraversamento che la percorre proprio a ridosso delle mura cittadine quasi a pochi passi dal centro storico quindi questo è un problema che è stato anche toccato ieri dall'assessora Sara Cucchiarini che ha rinazionato insieme alla comandante a Narita Montagna sulla situazione del corpo ha detto ben venga la complanare di Fano Sud che ha promesso la Meloni ma secondo appunto la Sara Cucchiarini occorre insistentemente anche realizzare la fine il completamento degli interquartieri verso nord perché sono due tratti quello Sudan e verso nord che potrebbero assorbire il traffico che ora lambisce la città nel centro storico. A Pian di Meleto si è spento Gildo Costantini aveva 106 anni era nato l'11 aprile del nel 1917 aveva fatto 5 anni di guerra oggi il funerale in paese era tornato a casa nel 1945 ed era sempre rimasto nel suo borgo facendo l'agricoltore e cercando tartuffi i funerali alle 15 nella chiesa di San Biagio di Pian di Meleto. Ed ora diamo un'occhiata anche la pagina di Ancona dove vediamo la foto di Ligabue che ha tenuto un concerto il rocker protagonista di due serate da tutto esorito al Palameteo. Ha fatto visita ai bambini e si è fatto fotografare con la croce rossa e poi invece vediamo qui l'addio che si è dato a Mitila un addio straziante 15 anni 15 anni si è tolta la vita. Pensate il dramma di questa ragazza uniti nella preghiera i parenti gli amici con il rito islamico educata mai un disagio tra virgolette è un po' l'espressione che è stata data che è stata pronunciata in favore di questa ragazza. Abbiamo detto che che è inquisito è il padre. Era sorto il sospetto che la ragazza fosse stata obbligata a essere unite in matrimonio a una persona che ovviamente lei non amava. Questo però è stato negato e ieri il padre era presente al funerale distrutto da quanto è accaduto. Per Mitila 15 anni precipitata lunedì scorso dal terzo piano della sua abitazione in via Capodistia nel quartiere multietnico del piano la minore morta giovedì dopo tre giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell'ospedale. E secondo il rito islamico gli uomini presenti ieri si sono girati verso la mecca hanno pronunciato una parola una preghiera e quindi la salma dopo essere avvolta più volte diciamo nelle lenzuola secondo appunto il rito islamico verrà portata via in Bangladesh e verrà rimpatriata in Bangladesh la sua terra di origine. L'ondata di maltempo anche a macerata da alberi caduti sulle case e tetti scoperchiati un uomo ferito alla testa e questo un po' i danni che si sono verificati un po' in tutta la regione. Qua un altro articolo per quanto riguarda Ancona dalla provincia raffiche di vento e danno dalla costa all'entroterra rami caduti e strade bloccate. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. Ora apriamo il Corriere Adriatico vediamo che l'apertura su Fano è dedicata alla festa della Municipale. Competenze moltiplicate perché ovviamente i vigili urbani non si interessano soltanto di traffico, di multe, di divieto di sosta ma si interessano anche di tanti altri settori della vita sociale della città. Abbiamo il settore del commercio, il settore della vigilanza edilizia, il settore ambientale, quello demaniale, le informazioni anagrafiche, le attività di polizia e giudiziarie. Insomma sono tanti i settori che debbono così essere di competenza appunto di questo corpo che ha celebrato 160 anni di attività. In questa tabella qui sono riassunti un po' i dati che l'assessora Cucchiarini ha reso pubblici ieri. Qui invece vediamo la comandante Montagna tenere la sua relazione con i bambini del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine che sono stati presenti così manifestando il loro rapporto con la Polizia Municipale, un rapporto tutto dedicato alla protezione, alla figura del vigile. È stata usata anche la parola di eroe perché è una presenza che è importante nei momenti delicati, nei momenti di turbativa dell'ordine pubblico dove si assolvono anche momenti particolarmente difficili. E ora vediamo un altro articolo, un altro articolo che riguarda una prestigiosa rivista, si tratta di Vitruvius. È la rivista giunta al secondo numero che viene pubblicata dal Centro Studi Vitruviani. È stata presentata l'altro giorno alla Mediateca Montanari e ci sono alcuni contributi realizzati da alcuni componenti studiosi locali che hanno fatto un po' si tratta in questo caso di Michele Tagliabracci, bibliotecario di Fano, che ha così fatto uno studio sul Teatro della Fortuna, sì, scusate, sul Tempio della Fortuna, mi sono sbagliato, sul Tempio della Fortuna. Che forma aveva il Tempio della Fortuna? Ebbene, secondo Michele Tagliabracci, il Tempio della Fortuna di Fano aveva una forma circolare. Lo attesterebbero tante riproduzioni che sono state replicate in città in diversi momenti e in diverse forme. Si è partiti da questo basso rilievo, qui se ne vede solo una parte, un basso rilievo che un tempo si trovava sopra il lavatoio che era di fianco all'arco di Augusto. Ora, questo lavatoio non esiste più. Qui è stato tutto riformato all'inizio degli anni 1900. Ebbene, sopra questo lavatoio c'è lo stemma del comune di Fano e sotto un edificio circolare. Edifici circolari poi vengono replicati in tantissime immagini della città. Li troviamo, per esempio, nella chiesa di San Pietro in Valle, li troviamo nella cappella Nolfi del Duomo, li troviamo in diversi quadri che raffigurano un po' anche i paesaggi nostri. E questo ripetersi di questa immagine circolare fa sì che si alluda all'antico Tempio della Fortuna. perché le immagini, come l'Arco d'Augusto, come appunto la Basilica di Vitruvio, erano gli elementi più significativi della città di Fano e quindi venivano così replicati. Molto probabilmente il Tempio della Fortuna di Fano aveva una forma circolare. L'ipotesi è sostenuta da uno studio compiuto da Michele Tagliabracci e pubblicato sul secondo numero della prestigiosa rivista Vitruvius del Centro Studi Vitruviani, edito da Erma di Brechneider, una rivista di grande rigore scientifico. Una rivista che è stata presentata anche nelle mostre del libro delle città più importanti, addirittura Milano, Parigi, Pechino, New York, sono state tante appunto le occasioni di presentazione che rende prestigiosa la rivista ma rende prestigioso anche Fano e l'attività del Centro Studi Vitruviani. Cambiamo argomento e passiamo ad Acqualagna, dove c'è l'esito di una gara per il miglior tartufo. Ai maltagliati di Sceffe Fiaschi va il primo tartufo Howard. Giornata top ad Acqualagna, si susseguono le manifestazioni dopo la visita del Premier Meloni che ha qui, lì, sancito un accordo con la giunta regionale delle Marche, dando poi un sostanziale contributo in euro. Ebbene, giornata top ad Acqualagna, tra le città del Tubero d'Oro, vince San Mignato-Pisa, e quindi la cosa migliore che è stata selezionata dalla regia. E qui vediamo invece questo ritratto. Chi non conosce Don Aldemiro? Don Aldemiro è stato l'angelo custode dell'ospedale Santa Croce di Fano, ma è stato anche l'angelo custode di Mondolfo. A tre anni dalla scomparsa di Don Aldemiro Giuliani, il Centro Socio Educativo Riabilitativo Comunale di Viale Vittorio Veneto, intitolato al sacerdote scomparso a 86 anni e durante la pandemia, ha ricevuto in dono un grande ritratto del sacerdote. Lo ha fatto, lo ha fatto dunque Simone Travaglini, artista mondolfese. Una grande tela dove c'è il viso sorridente di Don Aldemiro. Si tratta di una tela di centimetri 100x150, un metro per un metro e mezzo, realizzata con la tecnica mista del pennello, spatola, aereografo, spray, pennelli, ed è stata accolta al centro dal sindaco Nicola Barbieri, insieme agli utenti e alla coordinatrice di quella struttura, Patrizia Sambuco, che proprio Don Aldemiro, 33 anni or sono, contribuì a fondare. Quindi un ricordo veramente così giusto, un ricordo che fa onore a una persona che si è spesa per la collettività. Vediamo Senigallia. Senigallia. La burrasca fa danni in stazione. Via le croci dai tetti delle chiese. Le croci sono quell'elemento meno instabile, quindi più alla portata del vento che può procurare appunto danni. Staccata una parte della copertura dello scalo in stazione, il vento ha fatto crollare alberi e rami in strada. Ci sono stati i veri e propri momenti di paura. Da Senigallia la stazione ferroviaria nel primo pomeriggio di ieri, quando si è staccata una copertura. Sono volate cupole in policarbonato e altre parti di sostegno. Nessuno però si è fatto male. Questa è la cosa più importante. Il vento di ieri è stato responsabile, ma secondo chi frequenta la stazione da tempo è mancata anche un po' la manutenzione. Ecco perché queste strutture erano molto fragili. Qui parliamo di anni e anni di abbandono in Curia. Ha detto Mirko Marchionni, tassista, che staziona vicino alla stazione ferroviaria. I pezzi di ferro, oltre alle cupole volate via, sarebbero potuti cadere in testa a qualcuno. E quindi bisogna prevenire più che poi a raccogliere i danni nel momento in cui si verificano. E qua abbiamo un ladro che viene sorpreso nel momento in cui si appropria di un motore fuori bordo. Ruba un motore in porto, lado ripreso dalle telecamere. E lo vediamo qui. Ma ovviamente è tutto coperto e quindi sarà non facile, ugualmente se è stato ripreso, a identificarlo. Il furto è stato compiuto in via Venezia. Niente soldi per le spycam a Serra dei Conti. Ebbene, si tratta di un furto avvenuto la sera del primo novembre. Comunque solo ieri il proprietario ha avvisato del danno che è stato compiuto. E quindi la telecamera del gommone verrà visionata dalle forze dell'ordine. Siamo in conclusione. Voglio segnalarvi anche come il maltempo tormenta il Fabrianese, alberi caduti anche qui, frane e palas allagato. E con questo terminiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera, per il Tg Occhio alla Notizia e domani per una nuova rassegna stampa alle 7.00. Grazie per l'ascolto. A risentirci.